I'm so pretty bedgirl accogliamo i nostri struttori con tanto calore Su le mani, su le mani, non li sento, su le mani. Un'entrata d'effetto. Signori, alla Zoom Fitness, la maestra Agatha Giappino. Su le mani, su le mani, voglio sentire queste mani a tempo. Oh, stasera non sprecate i calli, vi vogliamo tutti con le mani rosse. E allo Spin Fitness, e steppa, arriva lei, Carmen Bonzangue. Hola, hola. Signori, non sento l'applauso. Qui si vuole, perché loro si casano, si casano, su, su. Arriva lui, alla breakdance, Ivan Strano. Sento l'applauso. E' arrivato, Ivan Strano, breakdance. Signori, alla trascina stessa. Miss Gaglia, ignoto. Su le mani, su le mani, su le mani. Hai visto come salta, hai visto come salta? Signori, alla country. Miss Roberta Tiratore, applauso! Signori, alla danza classica e moderna. Miss Agatha Mussolini. La fraterna人ora si presenta su questo parterre per voi. Ripeto, la maestra. E alla ginnastica ritmaca, signori Caterina Rommacca! Non sento l'applauso del pubblico! E per la ginnastica artistica, Alessandra Socca! E alla danza orientale, Miss Antonella, patanè in arte sciamma! E come al solito, non sento l'applauso! Signori, è da una delle arti marziali più nobili, Mr. Giuseppe Sapienza! Crucu! Buena! Bravissimo! E invece da un'arte marziale prettamente della nostra terra, signori, il maestro Giuseppe Mangano per il Liubo! Grazie! Grazie! Signori, direttamente dai pesi del bodybuilding il maestro Mirko Perruccio Signori, e per il karate arriva lui maestro Andrea Quattrocchi Bene, e allora questo era il parterre dei nostri istruttori Scusate, vi facciamo un applauso a questi validissimi a voi lo staff della Paradise Club E così come sono entrati escono in coppia andando a riscaldare i propri allievi per farli scalpitare e farli esibire nel migliore delle esibizioni che vi avete mai visto Paradise Club E così come Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.